Buongiorno o buongiorno a tutti e buon lunedì, bentornati o benvenuti sul mio canale. La mia settimana è iniziata malissimo, perché è iniziata al freddo, perché come sempre quando c'è il cambio di stagione e le temperature leggermente si alzano, la caldaia viene spenta. Ebbene sì, ci sono persone che ancora non capiscono che c'è un termostato e che questo termostato funziona e quindi non è il caso di lasciare dipendenti con 15 gradi, perché soprattutto in queste giornate ha fatto ancora molto freddo la mattina, ieri c'era una bellissima giornata di sole ma era una giornata fredda. Ebbene, da noi questa cultura non c'è. Sono incacchiata come una vipera e quindi per farmi passare il nervoso ho deciso di fare un video haul. Sono passata venerdì e sabato sia da Lidl che da Acqua e Sapone. Da Acqua e Sapone sono andata perché mi sono premiata, sono andata dalla nutrizionista, sta andando tutto bene, ne ho perso 3 kg in un mese e 6 cm in vita. Dovevo proprio sgonfiarmi. Quindi ero molto contenta di me stessa e sono andata a fare un giro da Acqua e Sapone perché mi servivano due cose indispensabili, non affascinanti, ma insomma ho preso la candeggina. E poi, facendo un bel giretto nei vari reparti con calma, ho spiluccato delle cosine interessanti che io non avevo ancora visto. So che alcune sono delle novità, ma vabbè, non è che ci sto tanto dietro a queste cose. Però mi sono premiata. Ma vediamo un po', quindi un puro, puro haul, puro shopping fatto da Lidl, due cosine e fatto da Acqua e Sapone. Iniziamo subito. Allora, iniziamo subito da Lidl, che ho meno cose. Anche qua ho preso degli indispensabili, avevo finito i miei dischetti di cotone. Con questi mi trovo davvero benissimo perché hanno la cucitura intorno, come vedete, se si vede, la cucitura intorno al dischetto di cotone, non si sfalda, sono davvero molto molto buoni, sono convenienti e quindi me ne sono presa tre pacchettini. Uno, uno, due e uno, tre. Poi, buttiamoli per terra che questi non fanno rumore. Poi, sempre guardando sugli scaffali, dovete sapere che il Lidl che c'è a Lecco è molto molto piccolino. Non ci sono mai delle novità e quando trovo delle cose che per me sono novità, ma che sono sugli scaffali da un sacco di tempo, io le provo. Non avevo mai visto questi shampoo e c'erano solo queste due tipologie. Shampoo per capelli grassi e shampoo per capelli secchi, ma che ho visto sui miei capelli comunque decolorati. funziona perché li ammorbidisce e non li unge con altre tipologie di shampoo e ho pensato di acquistarli perché stavo finendo gli shampoo che utilizzo io. Quindi, mi sono presa questo al tè verde shampoo per capelli grassi e questo con avena e camomilla shampoo per capelli secchi. Adesso io odoro con voi perché tanto poi li utilizzo. Questo è davvero molto molto delicato. Fatemi sapere se voi li avete provati, se vi siete trovati bene, se invece sono una cioffecata, non lo so. Oh, questo è più buono. Al tè verde, mi piace. E niente, quindi mi sono presa queste due. Erano gli ultimi che c'erano sullo scaffale. Cioè, il mio Lidl è veramente super super rifornito. Poi, ho voluto provare anche questo detergente. Per il viso, penso sia. Così sì, perché era proprio negli struccanti detergenti. Acquaritch for smooth clear skin. Per un detergente per pulire il viso. E questo gel detergente, pelli normali e miste. Deterge la pelle in profondità, tre in uno. E dice Il gel rinfrescante deterge in profondità ed è delicato sulla pelle. La formula idratante contribuisce a mantenere l'idratazione naturale della pelle. Massaggiare delicatamente e poi sciacquare. E niente, ho voluto provare questi due prodotti. Non so se i buonanotte. Non so se siano delle novità, se ci sono sempre stati. Io non li avevo mai visti. Perché vabbè, comunque l'occhio attinto un po' ce l'ho. E poi per finire, per raccontarvi che non dico le bugie, ho ricomprato il mio Acqua Fresh. E di questi c'erano solo due tipologie di profumi da uomo. Questo che è Acqua Fresh. E vedete che è in tonso. Perché l'altro praticamente è finito. E poi c'era questa che secondo me era una fragranza nuova. e si chiama One Fragrance. Il mio amico Mauro di Mauro e Profumi mi ha svelato il segreto dicendo che dovrebbe essere il dupe di Paco Rabanne. Non mi ricordo il nome del profumo. Me lo sono spruzzato perché c'era il tester. Mi è piaciuto un sacco. Poi mi sono andata a fare un giro nelle varie scansie. Sono ritornata. Adesso non è che vi racconto. Ma mi piace un sacco. È uno speziato dolce. Mi sembra un po' tabaccoso. Ma poi vi saprò dire meglio. Ecco sì, forse il tappo ricorda un po' il profumo di Paco Rabanne. Molto molto essenziale il flacone nella sua scatoletta d'oro. Ma poi avremo modo di parlarne. Ed eccoli qua. E questa è stata la mia spesuccia alla Lidl. Poi, come vi dicevo, sabato sono andata a fare un giretto da acqua e sapone. E adesso vi dirò la scoperta dell'acqua calda della Eli. Perché è la scoperta dell'acqua calda. So già che in tantissimi lo facevate. Io non sono mai stata attenta a questa cosa. Eh, niente. Io ho comprato un bel flaconcione da 3 litri e uno di ace gentile per i colorati. e un flacone gigante da 4 litri. Erano in offertissima, ma veramente in offertissima. Di ace candeggina più armonie floreali, densa e profumata. È la prima volta che provo il densa e profumata. Perché vi dico che ho scoperto l'acqua calda? Perché io ho sempre candeggiato, ma prima di mettere in lavatrice. Cioè, ho sempre seguito quello che faceva la mia mamma. La mia mamma sui grembiuli, le tovaglie, gli strofinacci, o comunque le magliette macchiate, cosa faceva? Candeggiava in un secchiello, in un catino. Candeggiava, poi risciacquava e poi metteva in lavatrice. E io, invece, ascoltando un po' il video delle varie amiche che sono molto più esperte di me su queste cose, ho scoperto che loro utilizzavano la candeggina direttamente in lavatrice. E così ho provato. Ho scoperto l'acqua calda. Perché facendo il programma con il prelavaggio, mi candeggia tutto benissimo, mi toglie tutte le macchie, io non devo stare più lì a fare la massaia degli anni 40. in un catino, e fai candeggiare, poi risciacqua, poi strizza e metti in lavatrice così, è di una meraviglia. E voi direte, Elena, grande, ci sei arrivata a 54 anni. Ebbene sì, e questo mi ha svoltato la vita. Mi ha svoltato la vita. Quindi adesso mi sono presa il mio barattolone di candeggina e lo userò come nel modo normale viene utilizzato. Poi, ancora una cosa di utilità. mi sono comprata un telo per asse da stiro perché mi serviva. Io sull'asse da stiro mi piace avere due o tre teli uno sopra l'altro perché mi dà fastidio stirare sentendo il metallo dell'asse. E quindi lo imbottisco per bene e man mano che si rovinano li sostituisco piano piano e quindi avevo bisogno, mi sono comprata un telo. Poi, avevo comprato anche degli assorbenti per Lucia che erano in offerta ma il cartellino era sbagliato e quindi a me risultavano in offerta ma effettivamente non lo erano probabilmente avevano messo il cartellino sbagliato e quando sono arrivata alla cassa che costavano 9 euro e qualcosa li ho lasciati lì perché ne avevo già fatto scorta per fortuna li aveva già a casa ma la signorina mi ha regalato gentilmente c'era una borsettina in omaggio e mi ha detto, no, l'errore è stato nostro e mi ha regalato questa borsettina della Lineus per metterci quello che vogliamo ci metterò i miei gomitoli e nulla adesso vediamo le cose più succose allora mi sono comprata ah sì, c'era ancora un'altra cosa che è di routine normale amministrazione per la casa allora, ho voluto prendere e provare un Ambipur bagno che dicono tutti che sia eccezionale non l'ho mai provato ma volevo metterlo dove c'è la scarpiera delle scarpe di Mattia che poveri noi e poi ho preso un Duck Active Clean per il water ma di queste cose chi se ne frega sono cose che ci servono ma non sono succose e invece avviciniamo la borsettina e vediamo un po' che cosa ho comprato allora, mi sono comprata uno shampoo di L'Oreal Elvive color vive per l'antigiallo sto finendo i miei due shampoo che ho nella doccia per lo shampoo antigiallo di questo non ho mai sentito cioè degli altri Elvive sì, ho sentito tante recensioni di questo non ho mai sentito nulla lo voglio provare e vediamo speriamo non mi diventi la testa azzurra come la fata turchina proverò e poi vi farò sapere poi ho visto sullo scaffale novità acqua micellare più latte idratante tutto in uno della Garnier era nel reparto novità perché ci sono vari tavolini con sulle ultime novità in modo che attirano l'attenzione e io mi sono proprio fatta attirare da questa acqua micellare con latte detergente fatemi sapere io non l'ho mai provata ma non l'avevo neanche mai vista da Tigotà penso di non averla vista perché sono andata l'altro giorno e sinceramente non mi sono accorta di questa novità e poi sono passata nel reparto Essence e quanto mai ci sono passata vediamo tutte le novità allora c'era questo skin perfecting toner hello good stuff la linea della skin care di Essence c'è uno stand davvero molto molto ben fatto da acqua e sapone non disordinato con tutte le cosine al loro posto mentre al mio Tigotà veramente cioè fanno un disastro pazzesco e era scontato da 4 euro e qualche cosa a 1 euro e 29 quindi io ne ho approfittato poi poi ho visto questo nuovo siero 48 ore di idratazione intensa 95% di ingredienti naturali e anche questo è andato nel mio carrello poi questo costa vediamo adesso ve lo dico c'è qua lo scontrino 4,99 questo e poi c'era questo siero primer glow anche questo nuovo di questo fantastico color rosino baby al succo di anguria probabilmente anche al profumo e questo l'ho pagato vediamo se riesco a trovarlo sempre 1 euro e 29 perché anche questo era scontato da 4,99 questi due se non sbaglio entrambi erano scontati da 4,99 a 1,29 e io ne ho approfittato poi sempre sullo scaffalino ho visto questo famosissimo perché allora a me pare di averlo visto l'ultima volta Simo di Beauty Passion correggimi probabilmente sbaglio mi pare di averlo visto da te che ne parlavi e essendo appunto in avanti scoperta per cercare qualche novità e questo era l'unico colore presente l'ho preso lì poi perché quest'inverno ma soprattutto in questo cambio stagione ho sempre le labbra molto secche molto screpolate è un colore molto molto naturale vediamo apriamoli insieme perché tanto questo lo utilizzo e non penso che esatto non si vede neanche il colore non penso che macchi o così prima di andare a letto vedete non lascia è oleoso oleoso e anche abbastanza denso e proverò a utilizzarlo poi 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 sono in fissa con i mascara colorati sono ritornata alla moda degli anni 80 ne ho comprato uno da Avon blu che vi farò vedere perché ho fatto un altro piccolo ordine da Avon ma ne volevo uno viola e la commessa gentilissima l'unico viola che c'era era questo di Pupa Vamp ed è un viola bellissimo il viola sui miei occhi verdi sta molto bene guardate che bel tono di viola spero si veda bene e quindi questo andrà in uso subitissimo poi vi farò vedere quello di Avon quando vi farò vedere l'ordine ultimo acquisti ah no poi ne ho ancora uno e sempre come trucco ho voluto prendere un eyeliner nero waterproof non ne ho neanche uno di nero ne ho di tantissimi colori verdi viola oro e quant'altro e invece questo spero non sia troppo difficile da mettere proprio nero nero vediamo se sarò capace di farmi la riga con l'eyeliner ultimissimo ultimissimo articolo che ho comprato da Acqua e Sapone un profumo allora come vi ho già detto altre volte a me piace tantissimo andare da Acqua e Sapone perché sono libera di provare i vari profumi senza che le commesse siano troppo insistenti troppo invadenti mi dicono ormai mi conoscono se ha bisogno mi chieda e quindi c'erano in offerta davvero tantissimi profumi con delle note abbastanza primaverili ed estive questo aveva il tester ed è un profumo prettamente prettamente estivo questo di Mandarina Duck ce ne erano altre tre o quattro tipologie in offerta sempre dello stesso brand ma io ho scelto questo sto guardando se ci sono scritte le note no ma vabbè questo lo sentiamo così proprio come primo spruzzo mi piace molto mi piacciono sempre questo bel colore acceso sfumato è un profumo davvero molto poi in macchina me lo sono sentito per tutto il tempo che me lo sono spruzzato un po' scomodino da spruzzare allora io ci sento della minta ananas o papaya insomma dei frutti prettamente estivi e tropicali buono infatti mi era piaciuto dal tester e l'ho preso insomma e nulla quindi come avete visto mi sono tirata su e mi è passato un po' il nervoso della giornata cominciare il lunedì così mamma mia è sempre brutto anche perché poi dopo i dipendenti sono scontenti lavorano male sono lenti perché fa freddo cosa ci si guadagna io non lo so solo per fare dispetto e basta ma chiudiamo qui questa parentesi ecco vi ho fatto vedere tutte le mie novità sono molto curiosa di provare questo toner e anche di questi due sieri ma sono curiosa di tutto io questi giù per esempio al tigotà non li ho visti non c'era niente sullo scaffale qui tutte le mie novità ecco qua ebbene ragazzi un video corticino per farvi vedere gli ultimi acquisti poi appunto vi farò anche il video acquisto ho acquistato anche da Avon ho acquistato da Look Fantastic alcune tipologie di sieri e novità ma li vedremo in un prossimo video io vi abbraccio vi auguro un buon proseguimento di settimana settimana santa per chi è cattolico e ci saranno tante funzioni che mi terranno occupata questa settimana spero di riuscire a girare un nuovo video prima di Pasqua non sono sicurissima perché ho dei libri da recensirvi da raccontarvi e li devo anche restituire in biblioteca spero che con tutti gli impegni della settimana santa riesca a trovare una mezz'oretta di tempo per così salutarvi farvi gli auguri e poi per raccontarvi i libri che ho letto vi abbraccio vi saluto e a presto ciao ciao